ciao a tutti io sono ilenia e bentornati in questo nuovissimo video in questo nuovo unboxing ci sto prendendo la mano a farli e con questo unboxing vorrei anticiparvi un'idea che ho per un video per una serie poi di video che verranno in seguito ho già fatto un video simile a quello che sto pensando di fare e vi annuncerò appunto con questo unboxing riguardo le indagini di erika foster che vi linko su nelle schede se volete recuperarlo perché una volta che io continuerò a leggere i libri con protagonista erika foster continuerò poi a recensirvi gli altri libri che man mano usciranno quel video è stato un po per racchiudere i primi volumi che erano usciti fino in quel momento per poi appunto continuare man mano che escono vorrei fare la stessa tipologia di video con un'altra autrice e un'altra detective ispettore in realtà e vi anticipo che si tratta di lotti parker sono usciti cinque libri in italia con questa protagonista ce ne saranno altri 5 o 6 da tradurre da portare in italia e poi da leggere io ho comprato adesso gli ultimi due pubblicati in italia e vi faccio vedere poi quando leggerò questi due che sono qui dentro farò un video stile le indagini di erika foster quindi ci saranno le indagini di erika foster e le indagini di lotti parker mi piace mi piace come spero piaccia anche a voi comunque spacchettiamo a c'è la apertura facilitata e by mi piace molto aprire pacchiamo da tipo non capisco perché così grosso va bene potevano sceglierne uno più piccolo perché tanto i libri in questione non sono molto molto grossi oppure sì non lo so perché allora prima di aprirlo non so in quale se nemmeno mandato perché ho scelto azione rigida no perché c'era solo quella non so se me la mandano così sotto questa edizione rigida qui oppure vi faccio vedere la newton compton ha anche un'altra copertina rigida che questa quindi non so se me l'hanno mandata così o così quindi non so nel caso dovrei organizzare un attimo la parte gialli che forse ok allora è questa edizione ecco ho già capito così vediamo un po quanto sono belli prenderò un po a no super figo allora il primo è questo nessun luogo è sicuro di patrizia gibney e dovrebbe essere il quarto con protagonista lotti parker io ho letto già i primi tre il super figo a me piace un sacco questa questa edizione così della newton compton è super bella io ho già questi tre i primi tre che indicano qua quindi l'ospite mi ha atteso le ragazze scomparsi e uccidere ancora è super mega figo bellissimo gli altri tre sono anche così di questo stile che hanno in concorso è un super belli allora ne manca uno manca il quinto adesso lo prendiamo viola no non è viola o si fucsia che colore è super bello i bambini silenziosi bello che poi c'è sempre a noi sempre lei si penso di sì ma che bello che bello sono super contenta quindi questi sono i due nuovi arrivi pagati 9.90 l'uno sono super belli super belli va bene questo video è finito spero vi sia piaciuto in tal caso lasciate un like fatemi sapere nei commenti quale libro di partizia ghi bene vi è piaciuto di più se li avete letti e se li state leggendo li volete leggere io prossimamente appena finirò questi due vi porterò insomma nel mondo di di dottie parker e iscrivetevi al canale se non ancora lo avete fatto attivando la campanellina per un padre di nessun altro video e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao